io stavo a scuola il passaggio voleva in braccio in braccio e il passaggio da cuore non stavo a scuola non stai a che vinto fu ammettato grande la figlia mi sono a tenere a scena la stavano tutti in braccio mi sono a tenere a chiedere quando la marina dice ma che io stavo a scuola quel giovedì fai certi capricci un bambino ancora non è un palazzo non si capisce è una moglie che non sa si fa a dire la moglie non si fa a dire la moglie non si fa a dire la moglie non si fa a dire la moglie con questa moglie ciao quale vuoi il tuo angelo tiene perché vuoi la mia moglie tutto la peri la mia moglie la mia moglie ma non mi parliamo è un mio amore la mia moglie Damiano, è piccolo il Piero. Paura. No, no. Che stai facendo la cancella? Domenico, piccolo il Piero. Ma è astro? Apro. E ci sono la sua figlia, Domenico. Dammi un po' a me. Dammi un po' a me. Chi sta qua? Ma non lo cazzo, figlio. Non lo cazzo, figlio. Dammi un po' a me. Come sei? Quando sei spostumato da un lato. Dammi un po' a me. Dammi un po' a me. Dammi un po' a me. Se non ci puoi amare io. Dammi un po' a me. Dammi un po' a me. Dammi un po' a me. Quando mi hanno telefonato sono impazzita. Mamma, devi farmi un favore. Non credi di no. Per me è davvero un po'. Ma, certo. Eh, sì. Ho perso dei documenti molto importanti. Mi sembra di ricordare che si siano sparpagliati per te. Mi sembra di ricordare che si siano sparpagliati per te. Mi sembra di ricordare che la polizia... No, non hai capito, ma mi servono subito ora, stavolta. Perché sono tanto importante? Per favore, non domandarlo. A me e a me. Anche presto. Ma ancora? Dovevo immaginare. Lei, sei il solito, non sei campato, papà. Bravo. E sono fiero di te, salvato la compagnia. È vero che sono fiero di te. Però sei subito pronta a insinuare che io possa comportarmi come un figlio traditore e il responsabile. Non devi credermi. È una domanda che non preoccupa. E allora perché l'hai fatta? Beh, in modo che ci sono stati passati con i problemi che ci sono stati tra di noi, ho pensato alla possibilità di un tuo coinvolgimento. Lo capito? No, 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 no. E va bene, la tua risposta è in onda, siamo fermi. Non voglio... Domenico! Morte! Domenico, venitila! Ma... 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 Quetta non mi ha avuto in maglietta, sento qua. Ma... Cosa? Che ti voglio prenderla. Cosa? Beh, fatti prendete. No, metti il picchietto. Aspetta, ho fatto un picchietto. A me, ti prende. Sì. Ma, mi chiamate Domenico. No, di te. Domenico, Domenico beve. Sperate Domenico. E chi ha detto, ti capisco, che è me? Beh, buavete. Cingì. A Francesca mangi un laia. Yeah. Mentre, mentre. Mentre. Perché? Perché la moglie, ogni volta che andava a trovare le scuole. prendono la fredde nero non mi accanto no no ma non ti hai visto niente? a me non si riparte mi ha dato c'è una ama ah quella è la ama ma io ti hai visto c'è un altro bambino di vestito oscuro che è andato vuoi dire che l'ha preso di acqua? no un arco dietro chiesto me chiesto me chiesto me mi chiesto ora dai l'autista è un par di gente ma cosa è? io ho una cambruncia io ho una cambruncia di qua vai la mia dopo 30 anni qualche anno non di chiusa vuoi farlo registrare? auguro vedo veso vedo veso vabbè l'autista vedo vedi vedo vedi non è che fai grisca mi interessa a me tu non si vuole muovere perché sei costo? vieni la bottiglia da dentro se non si viene se non si viene se non si viene se ti capo tu e te la fai ti capo vieni 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 il palettone che cosa? quello lì è il papà che è tosco e' di vieni vieni allora tu guardaci vieni 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 ti scrascia la latte vieni 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 lo and Miguel vieni av nombre vieni lo chiamo non lo chiamavo di vieni vieni chiamo ve vieni ma lì c'è Il pane d'oro? Il pane d'oro? Noi non paghiamo assenza di me Tu vuole passare? C'è una piccolina Qui c'è Rosario Quanto è questo? Dimmi, un po' di manchi Un po' di manchi Un po' di manchi Un po' di manchi Dalla mia Non c'è, non c'è abbastanza da me. D'Angesco? Non c'è mai questo. E tu? D'Angesco. Vieni qua. Ecco. Io non trovo la mia. Vedi D'Angesco? Dove, qual è il tuo bicchiere? Questo puoi prendere il tuo bicchiere. Mettacelo, io stai a scolio. Ma te lo metto qua. Dai. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Vedi, vedi, sai che pure si inghiava. Ma, qual è il tuo bicchiere? Qual è il tuo bicchiere? Non ho messo, non c'è, non c'è. Ah, sai, vedi? La tua parte? Non c'è, non c'è, non c'è. No, no, questa è tua, tua. È tua. Qual è il tuo bicchiere? Qual è il tuo bicchiere? Non c'è, non c'è. Che vuoi? Il vino? Ah, sai. Ah, è Angelo. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ah, non c'è, non c'è. Ah, non c'è. via. Quella 이어, ho 영토. Toca lo ho usato. Vedi dove sei usato? Non c'è, non c'è, non c'è. Oh Значитico, c'è di quel bicchiere? Vedi, vedi dove sta. Aspettito, vedi metà. Vedi, vedi dove sa? Non è voler dire, non è voler dire. Ma c'è madre. Non so, a me la prenderà. Domenica è un bravo. Sì, stanno andando a dire allora. Ieri era Domenica. Anche ieri. No. Vedi? Aspetta. Anche. No. 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 Vedi? Aspetta? No. Vedi. Aspetta! Che fai? Che fai? Vedi, vedi l'altra fuori. Non vuoi più? Allora, che non ci puoi chiamare se vuoi. Anche la fotografica? Oh no, del semplice. Oh, sperate. Ma... Ingerisce? Mi stai dicando le maduliette, io soggiorno. E' vero che il canno potrebbe essere la lista di tutto l'altro. E' vero che il canno potrebbe essere la lista di tutto. Che crei, grazie. Che c'è uno, va bene, che c'è uno. E' vero che c'è uno. Mi sento che è un po' di più, ma l'è... E' vero che c'è uno, non è un po' di più... Grazie. 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 Angelo candi disposi cuano Grazie a tutti. 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 Belli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.